E ora sei parliamo di Brando Giorgio, che si è ritirato dall'isola dei famosi per problemi alla vista. Come la concorrente Elisa Isoardi. Ma in questo secondo caso la situazione sembrava essere meno preoccupante. Infatti Brando Giorgio appena rientrato in Italia si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento agli occhio. Lo stesso concorrente ad operazione conclusa e quando gli sarà possibile, ha affermato di volere ritornare in studio per difendersi dalle accuse false che ha ricevuto nel programma. Brando Giorgio una volta in Italia si è dovuto operare per distacco della retina. Brando Giorgio concorrente isola dei famosi. Operazione che è andata bene. Scrive Brando Giorgio ex naufrago isola dei famosi sull'esito dell'operazione. Mi sono collegato per tranquillizzare tutti voi. L'operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni. Poi ne avrò ancora per parecchi giorni. E aggiunge sempre lo stesso concorrente del programma che. Mi sono arrivati tanti. Tanti messaggi di solidarietà. Mi ha fatto tanto piacere spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po'. Che sinceramente credo che questo messaggio sia la cosa più importante di tutte. Ossia che l'operazione si sia conclusa bene. Ovviamente il suo rientro in studio provocherà molte polemiche fra i naufraghi. In quanto lui ricorderete si era isolato perché non riusciva ad affrontare un percorso di sopravvivenza con gli altri naufraghi.